Buonasera, una puntata di Polifemo per così dire istituzionale. Conosciamo tutti i problemi di Taranto, dell'area ionica e stiamo cercando di fare un'analisi a tutto tondo con i soggetti che istituzionalmente la rappresentano, perché poi sono quelli che a vario titolo prendono le decisioni o comunque contribuiscono a prendere le decisioni, svolgono un ruolo importante istituzionale ai fini delle sorti di Taranto. Abbiamo un primo ospite, il dottor Martino Tamburrano, che è il presidente della provincia di Taranto. Presidente, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a questa intervista. Cercheremo di fare con lei un po' il punto della situazione partendo dalla attività istituzionale che lei ha svolto in qualità di presidente della provincia. Intanto una premessa, con la mancata realizzazione del famoso referendum Renzi, costituzionale Renzi, le province si trovano in una situazione particolare perché non sono più un organo elettivo, svolgono una funzione così indiretta. Partiamo da questo ruolo delle province che è stato ridimensionato, a mio avviso erroneamente, perché ci sono dei settori importantissimi. A questo punto forse andrebbero potenziate. Grazie a voi, grazie alla possibilità che mi date di poter esprimere il ruolo un po' a tutti, comunicare qual è il ruolo mio in questo ente come giustamente definito da te di secondo livello, anche se comunque di fatto non lo è, perché svolgo le stesse funzioni di un ente eletto dal popolo, il cui presidente è il Consiglio eletto dal popolo, le funzioni regionali, le funzioni nazionali, ancora oggi abbiamo l'ammodernamento e la manutenzione delle nostre strade, delle nostre scuole, l'ambiente, abbiamo tantissime deleghe nel settore dell'ambiente. Purtroppo abbiamo tutta questa ancora in compensa con minore risorse, con minore personale e soprattutto con un assetto mai definito, perché si aspettava il referendum che poi è andato così come è andato quello di un anno fa e quindi la provincia oggi è in un limbo di ulteriori decisioni che forse il prossimo governo prenderà in termini di riorganizzazione. Non è più possibile attendere in quanto noi abbiamo 1800 chilometri di strade, 110 istituti scolastici, 200 e oltre pratiche di investimento nel settore ambiente e non possiamo dare quelle risposte immediate e di certezza che la gente si aspetta. Presidente, quindi questo il ruolo è un ruolo fondamentale, lo ha menzionato lei stesso, è quello in ambito ambientale, scusate il visticcio di parole. Beh, la situazione ILVA è quella da affrontare, forse è la madre di tutte le battaglie. Stiamo assistendo a un rapporto molto ma molto forte, non dico di scontro ma quasi, tra governo da una parte e regione e comune dall'alto. Lei ha preso una posizione precisa nel momento in cui regione e comune hanno presentato ricorso al TAR, beh, lei l'ha pensata diversamente. Non fa parte, appunto, ha dichiarato di quella schiera che evidentemente, a suo modo di vedere, non vuole costruire. Più che non vuole costruire, credo che poco ha a che fare con le trattative in corso e mi spiego. Io ho meditato fino agli ultimi giorni, ho valutato anche la presentazione di quel ricorso ad Opponendum, quando ho visto che i due ricorsi, comune e regione, molto limitati per la verità, per poco coinvolgimento degli altri sindaci, delle forze sociali, delle associazioni, avrebbero limitato e soprattutto sospeso l'inizio dei lavori dell'AIA. E questo è nelle cose, lo dicono e non iniziano a dire che si sono accorti anche gli ambientalisti, poiché si è deciso da più parti, ma in questa condizione diciamo che era quasi scontato che l'ILVA non potesse prendere la strada della chiusura, bisogna immediatamente coprire i parchi, immediatamente avviare l'AIA, immediatamente dare certezze occupazionali, immediatamente pensare alla salute dei cittadini, immediatamente fare tutta una serie di cose che tante norme, tanti decreti hanno consentito di iniziare a parlare dell'ILVA e della città di Tarno e della sua provincia. E mi spiego, quello stesso governo contrastato da Melucci, ed Emiliano, è quello che ha fatto, ahimè non è manco del mio colore politico, quindi non si può dire che parteggio, ha fatto una legge importante nel gennaio 2015, quasi ridandoci la identità di Tarantini, ha guardato alla città vecchia, ha guardato alla nuova urbanistica, ha guardato al nuovo assetto sociale, ha guardato al nuovo assetto culturale, insomma sta riprendendo, oltre ad averlo fatto in passato anche altri governi, l'attenzione per anche le bonifiche di questo territorio. Tutto questo si stava incanalando in alcune certezze, in alcune anche modalità di intervento, abbattendo molto i tempi, persino della gara di concessione dell'ILVA. A questo invece si è opposto Melucci ed Emiliano. Emiliano parla di posti di amministrazione da avere includendo l'acquedotto, Melucci per la verità non parla, affianca soltanto, e tutta una serie di altre condizioni che a mio avviso avrebbero e stanno ritardando, trattativi e inizi dei lavori. Allora credo che bisogna riportare tutto alla ragione, togliere queste carte bollate, aver fiducia in un governo che deve fare, perché glielo diciamo noi, io stamattina ho fatto un'ulteriore lettera a calenda, invitandola a sentire le associazioni che fanno parte del nostro territorio. E secondo me dicono cose giuste, perché no arrivare a un momento anche di diversificazione industriale, io penso immediatamente al porto, abbiamo speso 400-500 milioni di euro e non imbarchiamo nulla, imbarchiamo carbone e idrocarburi. Credo che anche quell'attenzione del governo occorra, perché tutte quelle forze lavoro possano poi transitare ed eventualmente pensare a una bonifica generale del nostro territorio. Ma sono cose che al momento non si possono calare, al momento ci sono tante preoccupazioni, che non si coniugano poi con l'effettivo impegno di Emiliano. Mi riferisco per esempio a un piano sanitario degno per il nostro territorio, lo leggo e sono solo posti letto in meno e non in più, molto scomposto, non idoneo. Insomma, se lui dice che stiamo morendo, forse occorrerebbe qualche posto letto in più. Se lui dice contemporaneamente che il PD deve dargli collegi, forse nulla ha a che vedere con l'elva. Se lui dice determinate altre cose e poi le smendisce, insomma, in una parola sola, credo che è sotto gli occhi di tutti, questa sua scompostezza rispetto invece a un comportamento più razionale e logico e soprattutto competente da avere in questa fase. Ecco, Regione e Comune hanno presentato un piano delle controproposte al governo. Come lo ha giudicato? Ma lo hanno già giudicato gli altri. Se avessi aggiunto la mia voce, forse a qualcuno sarebbe stata giudicata strumentale. Quell'accordo non serve a nulla, perché il DPCM, se gli diamo dei tempi, dice le stesse cose. Il problema sono i tempi. Io, col mio ricorso, volevo determinare che i tempi fossero già domani. Questo è quanto. Tutto quello che è scritto, persino l'internizzo delle morti, tutta una serie di altre cose, sono tutte cose che stanno facendo e che si sta eventualmente programmando. Però, forse Melucci, ma nemmeno Emiliano, sanno le battaglie che stiamo facendo a questi tavoli provinciali per tirare fuori dall'Ilva tantissime montagne di rifiuti. Ci sono fanghi, c'è zinco, c'è loppa, c'è calce, c'è amianto. Ci sono tutta una serie di cose di preoccupazione per l'operaio, per la città, per i tamburi, per tutta una serie di altre cose. E allora credo che occorre, per sedersi al tavolo, competenza, conoscenza, soprattutto impegno per il territorio, staccate da tutte altre logiche politiche, di altre spartizioni, di presenza, di protagonismo e soprattutto con più concretezza. Tutte qualità che non ho visto, né in Melucci né in Emiliano. Nel mentre in cui lei parlava di Emiliano, ha toccato la questione sanitaria. Qui c'è un'emergenza, al di là dei posti letto in meno, abbiamo visto quello che sta succedendo al pronto soccorso del Santissima Annunziata, perché chiudere ovviamente il pronto soccorso del Moscati, di Grottaglie e quant'altro, ovviamente ciò comporta che il Santissima Annunziata scoppi o posso denunciare un fatto accaduto a un mio amico una quindicina di giorni fa. Il padre si è presentato con dolori lancinanti alla schiena, poi si è scoperto purtroppo che era una metastasi. Bene, questo poveretto ha aspettato al pronto soccorso di Taranto, parliamo di un malato oncologico, 12 ore. Penso che davanti a una mostruosità del genere ci sia ben poco da dire. Ma a me fa piacere che anche un cronista attento possa dire queste cose in maniera leale. In questo momento, se andiamo a pronto soccorso del Santissima Annunziata, oltre a tante ambulanze che giungono, ci sono tante altre macchine di privati che sono in fila per avere una prestazione. Io non lo so se Emiliano si accorge di questo, se Emiliano sa questo, se Emiliano sta facendo qualche cosa per sopperire a questo disagio, se Emiliano è in grado di fare qualche cosa rispetto anche agli errori del passato, ma contestualmente Emiliano, o il suo commissario dei rifiuti, emette ordinanze per far arrivare tantissimi rifiuti nella nostra città e nella nostra provincia. Queste sono verità, queste sono verità da dire alle associazioni, anche con atti, soprattutto con atti, con prove. Queste sono verità da dire a tanti riondini, sono verità da dire a tante persone che magari su qualche social o sito social ancora tessono le lodi, anche se sono ormai sopraffatti dal 90% delle persone che ha capito che il fallimento della politica regionale è il fallimento della politica comunale a distanza di soli sei mesi, con assessori che vanno via, deleghe che vengono tolte, immobilismo totale rispetto alle esigenze di questa città e soprattutto perdita di autorevolezza in termini anche di presenza, una continua asfissiante presenza barese nel nostro territorio. Sono tutte condizioni che stanno portando la nostra città, la fiducia nella stessa città in un baratro, credo, imprendibile. Allora, ecco qui il fatto di pensare più agli uomini che ai partiti. Bisogna fare un tavolo di uomini capaci, spogliati un po' da interessi politici, partidici, ma soprattutto protagonismi personali e cercare di trovare soluzioni e credibilità nei confronti di un governo che non ha mai avuto, e questo lo posso dire, attenzioni come quest'ultimo. Mai, dico mai, si è fatto qualcosa. Abbiamo assistito a qualche telefonata di qualche ex governatore che rideva sarcasticamente con proprietà ed altri dell'ILVA. Queste sono le cose. C'è un processo in atto. Da cinque anni la magistratura ha giusta ragione intervenuta, ma da cinque anni non si posa nessuna pietra, da trent'anni sono ferme le batte per le emissioni. Insomma, in una parola sola, credo che il fallimento attraverso la presentazione di quelli corsi è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo parlato di governo, spostiamo un po' il discorso in ambito nazionale, anche se poi ovviamente quelle scelte occupazionali, visto che ci occuperemo ora di questo segmento di occupazione, vanno a riverberarsi terribilmente sulla realtà di Taranto. Il governo Renzi e il governo Gentiloni poi hanno attuato un tipo di politica occupazionale che ha creato un falso positivo, per così dire, nel senso che se si è tornati a un incremento occupazionale di qualche anno fa, di tempi migliori, beh, si tratta però di lavori precari, di lavori a tempo indeterminato, di lavoretti, come si è detto, che certamente non risolvono il problema, nel senso che la vera occupazione è ben altra cosa rispetto a, ripeto, lavoretti, a un lavoro estremamente precario. Sì, anche qui. Io credo che le potenzialità le abbiamo tutte. si tratta veramente di rimboccarsi un po' le maniche, mi riferisco in particolare al sindaco di Taranto, alla regione, per le scelte che può fare sul nostro territorio e abbiamo necessità che le faccia. Abbiamo degli assessori regionali di Taranto che appaiono più in foto che in concreti poi risultati. credo che questa cosa si sta diffondendo, si sta contaminando il territorio di questo fallimento. Prima, come dicevi, avevamo qualche spiraglio occupazionale, avevamo qualche risposta, qualche attesa. Oggi invece le agenzie interinari, ma un po' tutte le imprese, si sono fermate nelle assunzioni perché non hanno certezza. Mi riferisco per esempio all'indotto dell'Ilva, mi riferisco all'indotto dell'Eni, mi riferisco all'indotto della Cementir, mi riferisco a quelle piccole e medie imprese che si sono un po' arroccate in alcune certezze invece di sopravvivenza della stessa azienda. Quindi l'occupazione si può fare con una politica di coordinamento certo, con finanziamenti europei che dovrebbero ricadere sulla nostra provincia, con un'attività nel settore urbanistico e di pianificazione del Comune di Taranto, di altri comuni. Queste sono le certezze che dobbiamo dare. La risposta è una continua presenza sui mass media, ma poca attenzione reale per il territorio. Bene, continua fra un po' la nostra chiacchierata col Presidente Tamburrano. Ora ce ne andiamo in pubblicità. Riprendiamo ora il nostro dialogo con il Presidente della provincia, Martino Tamburrano. Stiamo cercando appunto di fare il quadro sulla situazione di Taranto ed era giusto ovviamente sentire i soggetti istituzionali. Abbiamo trattato nella prima parte la questione ambientale, la questione occupazionale. Presidente, io dico che Taranto ha, io sono i fatti a dirlo, e la realtà ha delle potenzialità enormi. Parliamo di turismo, parliamo di patrimonio archeologico e ovviamente patrimonio storico-archeologico significa fare turismo. Delle bellezze, delle potenzialità inespresse. Possiamo passare dal mare alla collina, alle gravine. Possiamo passare dal mare di Taranto alle gravine di Massafra e di altri comuni. Una ricchezza che però in altre parti d'Italia saprebbero sfruttare e saprebbero vendere per oro quello che diciamo è in caglieria. Noi a Taranto abbiamo l'oro e non sappiamo venderlo. E magari subiamo, anzi subiamo il ricatto occupazionale dell'ILVA. Sì, forse è opportuno che spostiamo un po' l'attenzione e l'ha sposta immediatamente, come hai detto, sull'attenzione all'aspetto culturale di questa città. Beh, lo stesso governo contrastato da Melucci ed Emiliano ha dato la possibilità a quel museo di avere la decuplicazione delle presenze. Un'attenzione nazionale ha avuta. è venuto il Presidente del Consiglio. Adesso stiamo traendo i frutti di quella politica. Come pure abbiamo avviato finalmente, nonostante l'austinazione della vecchia giunta, ma di questa nemmeno ci si accorge, della sdemanalizzazione dei beni da parte dello Stato. Sono venuti ministri, sottosegretari. Abbiamo pianificato con il Capo di Stato Maggiore a quel tavolo prefettizio. Le condizioni, come ho detto prima, si stavano e si stanno creando, anche diversificando, perché non è che dobbiamo parlare solo dell'Ilva, dobbiamo parlare di tutto uno sviluppo più armonico del nostro territorio. E allora in questo momento, per esempio, dare le aree al Comune di Taranto, quelle della Marina, quelle dello Stato, e poterne fruire in maniera diversa nel centro della città, implementare ancora di più e consegnare l'altra parte del museo, far venire fuori finanziamenti per ristrutturare altri beni culturali che la città di Taranto e nei comuni siamo proprio pieni, la più alta concentrazione ce l'abbiamo nella città di Taranto e nei comuni. Potenzialmente credo che abbiamo tutto quello che può rappresentare più certezze, più fiducia e soprattutto come hai detto più, la possibilità di occupare a due cifre in termini percentuali giovani, disoccupati, rioccupati, cassi integrati, tutta una serie di persone che oggi non hanno certezza di portare lo stipendio a casa. Veniamo al quadro squisitamente politico, ormai le elezioni per il rinnovo del Parlamento sono alle porte, in questi giorni si stanno definendo le ultime candidature nelle coalizioni, lei dovrebbe essere candidato al Senato con la coalizione di centrodestra, con Forza Italia in particolare. l'apporto che intenderebbe dare con la sua presenza in Parlamento? Ma io così come sto stoppando altri giornalisti attualmente non c'è sicurezza di candidature per nessuno, stanno ascoltando i nostri vergili, gli attori del territorio, politici naturalmente, per cercare di trovare la quadra a mettere giù le migliori candidature possibili. Si è parlato molto della mia, ho dato la mia disponibilità, ma non per questo significa che da domani ho certezza di aver essere candidato, ma aggiungo anche, così come ho detto a qualche altra testata giornalistica, che già aver individuato non me, la mia città come epicentro dell'interesse di un centrodestra che mi auguro questa volta alle elezioni possa dare delle percentuali giuste e soprattutto rivenienti da un impegno, già aver individuato la mia città come epicentro della possibile candidatura al Senato o altrove del mio partito è già una vittoria importante. E questo deriva, credo, dall'impegno che ho profuso nella qualità di sindaco nella mia città, dal coinvolgimento di tante persone nella mia città e l'attenzione che hanno avuto per il nostro partito, dalle percentuali abbastanza alte che abbiamo messe sul tavolo a Roma del nostro partito, insomma, ci sono tutte le premesse perché Massafra possa essere, possa avere il suo candidato o al Senato o alla Camera o altrove o al proporzionale da parte del partito, senza Padini, senza tutta una serie di condizioni che magari in passato esistevano, abbiamo un coordinatore regionale che ha visioni politiche e non personalistiche del partito e credo che, credo, sono fiducioso che questa attenzione continua. Ecco, analizziamo un po' le varie coalizioni, c'è questa forza emergente del Movimento 5 Stelle che però ha, come dire, presentato, ha sviluppato una mutazione genetica, oserei dire, nel senso che il sistema delle famose primarie è di un movimento chiuso, diciamo, e non aperto alle personalità esterne, questa posizione iniziale è mutata, come, stando alle parole di Di Maio, ove mai i 5 Stelle non avessero i numeri sufficienti a governare da soli, aprirebbero il campo alle alleanze. E poi, da più fronti, si è parlato, sono state rivolte ai 5 Stelle accuse di proprio incapacità a governare. Ma queste sono tutte, diciamo, battute e posizioni più nazionali che locali. Io credo che la coalizione centrodestra mi auguro si allarghi il più possibile perché possiamo così con quella caratteristica della legge regionale, cioè dell'uninominale secco, dare la possibilità a tre persone della città e della provincia di andare in Parlamento. Perché basta prendere un voto in più, si va, no? L'uninominale è così. Ma non, come ho detto in altre sedute a livello regionale e locale, non un'accozzaglia di sigle o altro, una meditata aggregazione possibile che possa essere calata su un territorio che sta molto, in questo momento, ha molto alta l'attenzione verso chi eventualmente si propone o verso chi vuole usare quella matita per crescere democraticamente. Mi riferisco alla cabina della cabina del voto, per il voto. Quindi, sono tutte condizioni che io non ho mai evitato in un confronto a Banca di Stanza che alcune volte è serrato e mi auguro che innanzitutto si colmi sempre di più il divario tra chi vota e chi non vota. Mi auguro che vanno a votare, andranno a votare tantissime persone di Taro e della provincia per poi scegliere le persone migliori a governare questo territorio. Io l'ho sempre vista così, mi appassionano poco i social, mi appassionano poco tutte quelle fake news che circolano, mi appassionano poco le mutazioni, mi appassiona poco il cittadino che parla in maniera generica e lì c'è anche una colpa della politica perché ogni cittadino andrebbe preparato, andrebbe gli dovevamo mandare forse ogni giorno un giornalino per dire quello che facciamo, come deve crescere il territorio e soprattutto chiederle come vorrebbe partecipare allo sviluppo del proprio territorio. Sono tutte manchevolezze della politica che mi auguro si colmino con una nuova impostazione del ruolo e mi auguro anche da quello governativo che ognuno di noi potrà avere in questo momento di campagna elettorale. Presidente, chiariamo un aspetto sono sorte delle voci sul fatto della sua candidabilità in quanto Presidente della provincia secondo alcune voci lei si sarebbe dovuto dimettere sei mesi prima appunto della candidatura in Parlamento ci chiarisca la vicenda? Sì ci sono delle interpretazioni abbiamo fatto tanti quesiti senza risposta ma il partito sta valutando tutta una serie che non c'è solo Tamburrano c'è il Presidente di Caserta c'è il Presidente di Vercelli c'è il Presidente di Sondrio c'è il Presidente di Lecce ci sono tante persone che corrono per un seggio in Parlamento come tutti sapete la Regge 56 che riordina le province non contempla purtroppo la parte riferita all'incombatibilità e l'inlegibilità dei suoi amministratori a questo si aggiunge che la provincia non è più la provincia del 57 la legge famosa sull'incombatibilità e l'inelegibilità è oggi un ente di secondo grado chiamata Riavasta pertanto quando si parla di inelegibilità quella che agisce come potere dell'amministratore sull'elettore non c'è perché io non vengo eletto dal popolo ma vengo eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali quindi in un livello diverso per poter agire col mio ruolo le funzioni non sono più quelle di una volta persino la giunta provinciale non esiste più ecco perché noi portiamo avanti una tesi che può essere valutata solo a giurisdizione speciale senza norme mi riferisco alla giunta per le elezioni e abbiamo sottoposto al nostro partito così come lo ha fatto l'adepto del PD o di altri partiti o della Lega o di altri per avere una valutazione sia preventiva che postuma le elezioni se dovessero avere di ognuno di noi siamo al momento della conclusione a marzo lei lascerà qui la carica di presidente della provincia cosa si sente di dire a chi prenderà il suo posto ma io mi auguro di non lasciarla la carica perché in questo anno si decideranno cose importanti per il territorio quando dico di non lasciarla mi auguro di essere solo incompatibile qualora il partito mi dovesse designare candidato perché credo molto in tutto quello che ho fatto e credo molto in questa parte finale di presenza sul territorio e a guidare questo ente mi auguro che mi sostituirà un sindaco che possa avere la possibilità dello stesso impegno quotidiano e soprattutto di proseguire in un'attività da completare mi riferisco a finanziamenti nelle scuole all'attività che abbiamo fatto del CIS alle strade alla regionale 8 finalmente abbiamo avuto i soldi con quella richiesta che fece a Renzi alla circunvalazione di Martina al secondo lotto della tangenziale Nord a tutta una serie di cose all'offerta formativa al raccordo con l'università a tutta una serie di cose che abbiamo diciamo buttato giù e concretizzato in questi tre anni che mi hanno visto presidente con la collaborazione del primo consiglio provinciale e del secondo consiglio provinciale io mi auguro solo questo al di là del colore politico che avrà il nuovo presidente della provincia bene presidente la ringraziamo e le facciamo in bocca al lupo